Per come si era messa poi nei minuti finali dove i miei ragazzi sono riusciti a trovare quel guizzo per portarsi in vantaggio. Peccato, c'è il rammarico, ma c'è sicuramente tanta gioia per la prestazione, per quanto prodotto sul campo. Veniamo fuori da questa partita sicuramente con maggiore autostima, avendo messo un ulteriore notto in Cina, avendo proseguito quello che è il nostro percorso nella direzione giusta. Sono molto soddisfatto della prestazione, chiaramente sono arrabbiato così come lo sono i miei ragazzi per il risultato, ma fa parte del calcio e lo dobbiamo accettare. Si volta pagina, si guarda davanti e ci si prepara per la partita di Monopoli nel migliore dei modi, tenendo ben presente che dobbiamo seguire questo atteggiamento, questo spirito, dobbiamo mantenerlo e nutrirlo fino all'ultima partita di questo campionato.